Allenarsi tutti i giorni fa bene? Fa male? Fa già no? Questa è l'annosa domanda a cui cercheremo di rispondere oggi e ti prometto che lo faremo ma subito dopo la nostra nuova sigla Tutti si fanno questa domanda almeno una volta nel loro percorso all'interno del fitness Allenarmi tutti i giorni la via migliore oppure otterrei più risultati concedendomi del riposo qui e là? Ma al grado ciò purtroppo non ci sono così tante ricerche in merito come potresti pensare Noi abbiamo raccolto tutto quello che abbiamo trovato di rilevante e come sempre i più nerd tra voi troveranno i link agli studi scientifici in descrizione Per tutti gli altri invece ecco che cosa c'è da sapere Tanto per cominciare dobbiamo fare una distinzione tra le varie attività sportive Sintetizzando possiamo dire che sia una distinzione tra palestra e il resto del mondo Il bodybuilding infatti è l'unico sport in cui il tuo obiettivo principale quando ti alleni è proprio quello di sfinire i muscoli e tra l'altro sei tu a scegliere quali muscoli utilizzare in ogni sessione di allenamento Certo questo non salva il fatto che ci siano tantissimi altri sport che sono provanti a livello muscolare ma in questi sport non ci si allena proprio appositamente per sfinire i muscoli L'obiettivo principale può essere piuttosto quello di colpire una palla per mandarla dentro un buco grande dentro un buco medio, dentro un buco piccolo o per gli amanti dell'adrenalina anche spolverare il ghiaccio per mandare una palla che non è una vera palla in un buco che non è un vero buco In questi sport non puoi scegliere quali muscoli usare ovviamente perché non puoi ad esempio impugnare una racchetta oggi con le mani e domani con i piedi Quindi cominciamo proprio dal resto del mondo cioè da tutte quelle attività che vanno appunto dalla corsa fino al nuoto In questi sport i professionisti si allenano facilmente anche due volte al giorno Un calciatore professionista ad esempio si allena in media 4-5 ore al di Un nuotatore 6 ore Un ginnasta può addirittura arrivare ad allenarsi 8 ore al giorno e fino a 50 ore a settimana Chiaramente parliamo di professionisti per cui la maggior parte di noi non avrebbe né la resistenza né il tempo per seguire una programmazione di questo genere Possiamo però allenarci tutti i giorni senza preoccuparci più di tanto Allenarsi tutti i giorni in questo caso produce effettivamente più benefici sia nel renderci più bravi in quel determinato sport sia sulla nostra forma fisica L'importante è tenere a mente due cose La prima è che se ci alleniamo di più dobbiamo nutrire i nostri muscoli alimentandoci di conseguenza e assicurandoci di assumere sempre abbastanza calorie all'interno della giornata La seconda è che quando siamo all'inizio non essendo ancora a nostro agio con i movimenti che facciamo sarebbe meglio non fare sedute intense ogni giorno la stanchezza fisica e l'inesperienza combinate tra loro ci esporrebbero ai rischi tipici di ogni sport tipo una storta nel tennis una serie di dolorosi crampi nella corsa o nel calcio oppure farci travolgere da un bisonte nel football americano senza nemmeno vederlo arrivare tra l'altro quindi cose così La terza e ultima cosa da tenere a mente è che l'età ci rende molto più esposti agli infortuni Una ricerca interessante su Plus One una rivista medico-scientifico californiana ha studiato il rischio di correre tra i 30 e 39 km a settimana per le donne e tra i 40 e 49 km a settimana per gli uomini senza grande sorprese è emersa una correlazione molto stretta tra l'età e la percentuale di infortuni registrati nella ricerca Bene, quindi per il resto del mondo vince l'allenamento quotidiano ma nel bodybuilding invece? Come dicevamo all'inizio qui hai sia la possibilità di programmare i giorni di allenamento sia l'intensità sia i muscoli da allenare Cominciamo proprio con la programmazione dei giorni di allenamento I piccoli ragazzi smagriti che vedi in questa foto fanno parte del team della nazionale norvegese di powerlifting Un giorno i loro allenatori hanno deciso di dividere il team in due gruppi Il primo gruppo si è allenato 6 giorni a settimana perché la domenica ovviamente è il giorno in cui si affumica il salmone In ogni allenamento questi atleti facevano 3 esercizi per gruppo muscolare Il secondo gruppo invece si è allenato 3 giorni a settimana facendo 6 serie di esercizi per gruppo muscolare in ogni allenamento Alla fine il primo gruppo è quello che ha ottenuto più risultati sia a livello di forza che di ipertrofia Questa ovviamente è una ricerca interna ad un team non un vero e proprio studio scientifico ma ha aperto la porta ad altre ricerche sul tema Nel 2016 ad esempio sullo Sports Medicine Journal è stato pubblicato uno studio fatto su più soggetti e con più attrezzatura in modo da rendere ancora più preciso e dettagliato tutto l'esperimento Anche stavolta il primo gruppo si è allenato 6 giorni a settimana facendo 3 serie per gruppo muscolare Il secondo invece si è beccato 2 allenamenti a settimana ma da ben 9 serie per gruppo muscolare Non è chiaro se siano sopravvissuti tutti Ciò che è chiaro invece è che il primo gruppo ha ottenuto anche stavolta dei risultati migliori Allora il gruppo 1 è quello che vedi rappresentato dalla linea blu mentre il gruppo 2 è quello della linea arancione Ricordiamo il gruppo 1 si è allenato 6 giorni a settimana e il gruppo 2 solo 2 volte ma a parità di volume Allora anche se i picchi del secondo gruppo sono più alti come puoi vedere nel complesso chi si è allenato 6 volte ha fatto pagare dividendi maggiori ai suoi muscoli Il caso della nazionale norvegese e quello dello Sports Medicine Journal hanno in comune però una cosa che potrebbe eventualmente essere criticata In entrambi i casi infatti gli atleti si allenavano sempre utilizzando tutti i muscoli durante tutte le sessioni di allenamento Ecco sarebbe stato diverso se avessimo deciso ad esempio di dividere i muscoli tra un allenamento e l'altro? Prendiamo per esempio la classica routine che fanno molte persone in cui un giorno viene allenata la parte alta del corpo e un giorno viene allenata la parte bassa In questo caso di fatto non è come allenarsi tutti i giorni È vero che tu vai in palestra quotidianamente ma i tuoi muscoli fanno giorni di riposo alterno quindi è come se tu stessi facendo due sport diversi praticando un giorno uno e un giorno l'altro Beh però sappi che in realtà non cambia nulla nemmeno in questo caso Anziché fare 3 serie di squat il lunedì e 3 serie il martedì per fare un esempio ne farai 6 serie tutte di lunedì Ovviamente da un giorno all'altro i tuoi muscoli si riposano molto di più che tra una serie e l'altra Quindi nella quarta, quinta e sesta serie di lunedì sarai più stanco rispetto alle 3 serie del martedì Essere stanco significa usare carichi più bassi e quindi ottenere meno risultati Anche in questo caso quindi a conti fatti è meglio stimolare muscoli tutti i giorni In qualunque modo tu voglia guardare la cosa il risultato non cambia Anche in questo caso ovviamente a paddo di non essere esaltati o di esagerare Perché se esageri ad esempio facendo 9 serie per muscolo tutti i giorni al 70% del tuo massimale Finisci in overtraining e questo si riflette molto negativamente sia sui tuoi livelli di stress Che sulle tue articolazioni che sui tuoi progressi ed ultimo sulle tue performance Poi se sei una persona inesperta che si allena 4 volte a settimana con la schiera di un trainer preparato Fatta su misura per le tue esigenze, per i tuoi obiettivi, per la tua situazione di partenza e le tue condizioni mediche Ovviamente otterrai più risultati rispetto a una persona che si allena magari 6 volte a settimana Ma con una programmazione completamente sbagliata e fatta male E da ultimo ricordati che allenarsi 6 giorni a settimana rischia di avere effetti collaterali Come postare frasi motivazionali nelle storie Instagram che poi tanto sono sempre le stesse E aumenta esponenzialmente la probabilità di dimenticarti a casa le calze di ricambio Quindi fa molta più attenzione E anche per oggi così dal team di Fite è tutto Ricordati di lasciare un mi piace se il video ti è piaciuto E di iscriverti al nostro canale per non perderti tutti gli altri video come questo Pace e ghisa a tutti Pace e ghisa a tutti